buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 26 ottobre 2023 vediamo subito di chi è la nomastico oggi chi si festeggia e vediamo un santo che dalle nostre parti non è molto conosciuto ma lo è però nelle altre regioni d'italia si tratta di san folco scotti vescovo visse nel tredicesimo secolo era di piacenza discendente da una famiglia di scozzesi ma non proprio di scozzesi della scozia perché con questo termine allora si identificavano le popolazioni dell'irlanda quindi la sua famiglia aveva degli ascendenti irlandesi ebbene fu vescovo di piacenza e di pavia folco fu un grande pacificatore della rivalità tra queste due grandi città una rivalità molto feroce e anche sa anche oggi ci sarebbe tanto tanto bisogno di elementi pacificatori quindi san folco scotti è un grande punto di riferimento e vediamo ora le previsioni del tempo oggi in tempo è abbastanza buono vediamo se abbiamo la grafica vabbè comunque lo diciamo a voce abbiamo cieli in prevalenza poco nuvolosi salvo la presenza di qualche addensamento nel pomeriggio i venti saranno al mattino moderati al pomeriggio forti il mare poco mosso le temperature tra 18 e 24 gradi e ciò detto passiamo alla lettura dei giornali iniziando oggi dal corriere adriatico la pagina di fano eccola qua il titolo di apertura dedicato ad un personaggio particolare un personaggio che dedica la sua vita ad aiutare gli altri e mauro guerri che è presidente dell'associazione della mensa di san paterniano dell'associazione che gestisce questa opera solidale questa opera caritativa ogni giorno raccoglie il cibo ma serve però un altro mezzo ebbene questo è mauro guerri e questo è il furgoncino che lui usa tutti i giorni per fare il giro dei bar dei supermercati degli esercizi dei negozi per ritirare tutto quello che avanza tutto quello che sarebbe buttato via o perché prossimo alla scadenza o perché magari l'immagine non è proprio perfetta ma sono cibi salutari cibi buoni cibi nutrienti cibi che possono servire per aiutare la mensa di san paterniano che pensate ogni giorno da da mangiare a 200 persone veramente un atto solidale di grande di grande importanza più da alloggio a 17 persone che vengono segnalate dalla prefettura che dormono che fanno la colazione il pranzo la cena insomma che vengono assistite in tutto per tutto e che hanno preso il posto agli ucraini che dopo un anno hanno soggiornato appunto nella mensa di san paterniano un aiuto mauro guerri chiede un aiuto perché ha partecipato all'iniziativa del crowdfunding della fondazione carifano che si è impegnata a raddoppiare la cifra che ogni associazione raccoglie per realizzare i propri progetti il progetto appunto della mensa è quello di acquistare un nuovo furgone quello vecchio non ne può più e tra poco verrà messo in discarica e allora e allora che cosa fare bisogna aiutare questa iniziativa che già ha tanti tanti benefattori però ovviamente questa è una spesa particolare vediamo le altre notizie sul Corriere si parla ancora della piscina di questo nuovo impianto che ormai è stato realizzato è tutto pronto nei pressi dell'aeroporto di Fano è un impianto che ora deve assolvere le ultime fasi dell'itinerario burocratico quelle del collaudo quella di tutti i permessi e beh una cosa piuttosto piuttosto dobbiamo dire complicata che mette a dura prova la pazienza e la determinazione appunto dell'ente investitore nuova piscina slitta l'apertura confidiamo entro novembre la previsione del gestore ricci ricci che è il presidente dell'associazione che ha gestito anche la piscina di Nisalvalai ritardi per la burocrazia e il training tecnologico vedete come nella piscina nuova già c'è l'acqua già è stato fatto il riempimento delle vasche insomma mancano veramente le ultime fasi per poi dare questo grande nuovo bellissimo impianto alla città giriamo la pagina vediamo anche la cronaca ieri c'è stato un incidente in via Fanella lo vediamo in questo piccolo articolo a fondo pagina però un incidente piuttosto serio è ferita una motociclista una cinquantasettenne che era in sella alle due ruote a uno scuterone che è finita contro un quadriciclo e ha avuto ovviamente la peggio vediamo anche le altre notizie passiamo ad acqualagna il tartufo tra fiera e borsa qui il polso del mercato il sindaco di acqualagna lisi annuncia la kermes da sabato tra cucina e cultura uno degli appuntamenti più importanti del nostro territorio perché insomma il tartufo d'acqualagna è un po' il simbolo della enogastronomia territoriale al via dunque la cinquantottesima fiera nazionale del tartufo bianco di acqualagna protagonista alle 10.30 questo è il momento inaugurale di sabato prossimo giornata di apertura anche nel teatro conti il direttore del tg5 clemente mimun riceverà la ruscella d'oro insomma che è uno dei riconoscimenti importanti sia per l'attività che ha svolto questo giornalista sia per quanto riguarda l'immagine il duplice aspetto sia per quanto riguarda l'immagine del tartufo che per quanto riguarda l'attività del giornalista invece per quanto riguarda la promozione turistica vediamo che questo articolo di spalla pubblicato appunto dal Corriere Adriatico è particolarmente importante perché ieri si è presentata la terza edizione degli itinerari archeologici dell'itinerario della bellezza quelle opuscolo un opuscolo piuttosto diventato ormai un libro piuttosto che un opuscolo stampato dalla Confcommercio la presentazione è stata fatta a San Lorenzo in campo si tratta di una terza edizione di tutti gli itinerari con notevoli novità allora ovviamente vengono evidenziati i siti museali gestiti dalla Confcommercio come quello di Pergola, come quello di Cagli e altri vediamo che cosa dice questo nuovo opuscolo bronzi dorati di Pergola, la Fano Romana, il Parco archeologico di Forum Semproni l'Ipogeo di Piagge, il Museo archeologico della Via Flaminia la Sala dei Mosaici di Colli al Metauro i Mosaici del Duomo e la Domus Romana di Via dell'Abbondanza di Pesaro e poi tutto il resto, insomma Fano, la provincia è molto molto ricca di reperti storici e la novità di questi itinerari è anche un po' l'inserimento della rete dei musei che è appunto stata costituita recentemente dalla regione Marche sfruttavano gli immigrati nei campi, turni massacranti a soli 5 euro all'ora sono stati arrestati tre pakistani la denuncia è partita da Mondavio poi si è stesa un po' in tutte le marche e le forze dell'ordine hanno individuato questo racket così possiamo dire di sfruttamento della mano d'opera l'inchiesta è partita dal controllo a Mondavio di un furgone con otto braccianti le forze dell'ordine hanno fermato questo furgone hanno individuato i braccianti gli hanno chiesto cosa fate, cosa non fate e da lì è stata scoperta tutta questa vicenda di sfruttamento della mano d'opera buste paga regolari ma le vittime venivano costrette a restituire parte degli stipendi che ricevevano e in più le ore segnate non erano quelle effettivamente fatte perché quelle effettivamente fatte erano molto di più di quelle inserite in busta paga c'è anche una disavventura per il sindaco di terre roveresche Sebastianelli che secondo la minoranza avrebbe asfaltato un tratto di strada privata ovviamente il sindaco si difende dice sono a posto con la coscienza non ci sono prove rispetto a questa presunta falsificazione parliamo di 20 metri di strada che è sempre stata asfaltata sin da quanto ero bambino ho risposto alla minoranza inviando una delibera di classificazione delle strade in vigore dal 1996 questo è un po' un batti e ribatti dalla opposizione alla maggioranza e veniamo a Senigallia a Senigallia c'è una soluzione ingegneristica importante per venire incontro a problemi di piena Senigallia è molto attenta ormai a queste cose dopo l'alluvione che c'è stata nei mesi scorsi allora, Martinetti sotto il ponte Angeli sono dei Martinetti, sono degli dispositivi che possono alzare il ponte nel momento in cui c'è un'ondata di piena in modo che non si crei danni che non si creano intasamenti e poi la forza delle onde magari non potendo sfogare in senso verso il mare spinge verso le porte laterali ebbene, l'idea del vice commissario all'emergenza Babini è quella, lo ha esposto durante un incontro con la Confartigianato è quella di realizzare, di dotare questo ponte da due Martinetti uno per lato in modo da poterlo alzare, dicevo quando arriva la piena potrebbe essere una soluzione interessante Arcevia la ricostruzione costerà tanto costerà 36 milioni di euro il sindaco riceveremo anticipi per affrontare la progettazione e Babini che dopo aver parlato a Senigallia è andato anche ad Arcevia accompagnato da un geologo si tratta del comune Arcevia che ha riportato il maggior numero di danni strutturali tra ponti, strade nell'alluvione del settembre del 2022 ecco perché ha bisogno di tanti soldi per procedere alla ricostruzione e poi voglio segnalarvi anche questo articolo che occupa tutta una pagina del Corriere Adriatico che parla della raccolta delle olive e dell'olio ebbene, quest'anno non è stata una stagione favorevole a questo settore dell'agricoltura il crollo delle olive raccolta addirittura dimezzata è la DOP e una rarità nelle Marche si stima per il 2023 una produzione di 1600 tonnellate di olive e poi tra parentesi un dato preoccupante meno 50% ovvero si raccoglierà la metà delle olive rispetto a quanto raccolto nel 2022 Alfei Agronoma Amap dice ci sono state anomalie climatiche la mosca olearia una brutta, una brutta annata per l'evo di cartoceto il calo previsto raggiunge addirittura l'80, il 90% quindi veramente una stagione da dimenticare la produzione dell'olio di oliva poi è sintetizzata in questa tabella pubblicata dal Corriere Adriatico che fa un po' la sintesi e dà l'idea di quanto sta avvenendo comunque l'olio è sempre di grande qualità perché poi la cura e la manutenzione la qualità degli olivi del nostro territorio è veramente eccelsa tanto che la DOP di Cartoceto è una delle uniche DOP del nostro territorio ed ora diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi pubblicate dal Corriere Adriatico anzi prima passiamo in Regione perché vediamo che la simpatetica la simpatetica sintonia che esiste tra governo nazionale e governo regionale produce qualche risultato e anche qualche soldino allora Meloni sulle orme di Mattei Mattei di Urbania portano alle Marche 370 milioni è grasso che cola questo veramente sabato la Premier sarà da Qualagna per la firma dell'accordo di coesione con la Regione con il Ministro Fitto annuncerà i dettagli del patto finora seglato soltanto con la Liguria e si tratta di risorse che fanno parte del FISC ovvero il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sono appunto 370 milioni a cui si aggiungeranno altri 40 come funziona questo fonte di finanziamento? si tratta di un fondo nazionale parallelo alla programmazione dei fondi europei per la coesione attraverso cui vengono attuate le politiche per rimuovere gli squilibri economici e sociali tra i territori quindi le Marche hanno qualcosa da richiedere in più rispetto ad altre regioni ed ecco perché il governo cerca di pareggiare questa disparità giriamo la pagina e vediamo questo articolo di apertura della pagina di Pesaro e si parla di Vigili del Fuoco Vigili del Fuoco problemi a Pesaro per quanto riguarda la collocazione della sede che imbocca proprio la nazionale la statale adriatica e quando i mezzi devono uscire per immettersi in tutto il traffico che percorre appunto la statale è un problema e sono uscite pericolose come intitola appunto il Corriere Adriatico il Presidente Perugini riunisce tutti i capigruppo per chiedere una nuova caserma così si rischia troppo ebbene si parla di questo in Consiglio Comunale c'è una coesione sia di maggioranza che tra la maggioranza e la minoranza per richiedere allo Stato per richiedere al Ministero dell'Interno una nuova caserma che sia più funzionale soprattutto possa rispondere meglio alle esigenze di queste squadre di soccorso che sono veramente molto impegnate per difendere il territorio da tanti problemi l'acqua, il fuoco la tutela dell'ambiente e via dicendo una nuova caserma dei vigili del fuoco a Pesaro l'attuale struttura è obsoleta con spazi insufficienti e in una zona viaria pericolosa ebbene e allora che dire scusate ma qui non si tratta di campanilismo ma si tratta di dare un'occhiata alla realtà che dire appunto della caserma dei vigili del fuoco di Fano lo stesso è affacciata su una strada nazionale la Flaminia anche lì è pericolosa la struttura è insufficiente la nuova caserma è in ballo da tanto tanto tempo c'è stato il problema della ditta che poi ha rinunciato poi ha richiesto un finanziamento superiore poi c'è stato insomma tutta una serie di problemi e ancora non si vede il cantiere sorgere nella zona di Chiaruccia dove dovrebbe venire la nuova caserma dei vigili del fuoco e qui chiudo la parentesi vediamo le altre notizie pista di patinaggio a Pesaro Pesaro on ice per il mese di dicembre ebbene però questa è una bella fonte di attrazione anche per i commercianti della zona però c'è il rovescio della medaglia la pista occuperà 12 parcheggi e su questo già si sono messi in allarme i commercianti della zona commercianti già in allarme e allo studio l'ipotesi di recuperarli questi posti macchina in Viale della Repubblica per un mese inutilizzabili 12 posti auto in largo moro sarà messa la pista di ghiaccio e vediamo ancora questa notizia che riguarda Pesaro capitale della cultura ebbene occorrono anche fondi ovviamente per realizzare tante iniziative la regione aveva promesso 500 mila euro già l'importo non era tanto grande insomma non era eccezionale però nemmeno questo è stato messo nell'aggiustamento nell'assestamento di bilancio che è stato approvato in questi giorni sui 500 mila euro per la capitale 2024 la regione fa orecchie da mercante la somma promessa non figura nell'assestamento di bilancio insorge Biancani consigliere regionale del partito democratico finanziato di tutto e di più meno pesaro capitale c'è ancora un'altra promessa insomma adesso non si perde del tutto l'idea che poi questi soldi vengano inseriti nell'assestamento di dicembre nell'assestamento di bilancio di dicembre ma è un'altra promessa e allora queste promesse che vengono così lanciate e poi disattese poi rimandate insomma non danno una grande fiducia per quanto riguarda i rapporti politici tra i due enti la tecnologia digitale diventa amica facilitatore per risolvere i problemi è stata presentata una nuova figura professionale che affiancherà i cittadini ma anche gli apre gli imprenditori e veramente ce n'è tanto bisogno di una figura professionale perché poi non tutti i cittadini sono esperti nell'utilizzare le nuove tecnologie che sono complicate pensate utilizzare lo speed utilizzare un po' tutti i procedimenti per entrare nei siti istituzionali quelli delle poste quelli dell'Inps e via dicendo Urbino Urbino si al termovalorizzatore e discarica il sindaco Gambini rilancia l'esigenza di entrambi gli impianti insieme al digestore anaerobico non si può fare come il centro-sinistra che vota il progetto del consiglio di amministrazione di marche multiservizi e poi va a protestare ebbene ora all'inizio c'è stata una grande rivolta per questi nuovi impianti termovalizzatore biodigestore eccetera poi alla fine si sta cominciando ad abbozzare perché insomma è un problema che deve essere risolto e con la discarica discarica non si può fare in questo posto non si può fare in quell'altro una soluzione bisogna trovarla e sembra che l'idea del termovalorizzatore cominci ad entrare cominci a fare largo tra chi prima era contrario e allora mettiamo da parte il Corriere Adriatico invece diamo un'occhiata al resto del Carlino e vediamo una notizia importante pubblicata in apertura ebbene variante Gimar addio ai 20 milioni sarà veramente così? ebbè per il momento è così ma non tutto è perduto anche qui c'è una possibilità di recupero adesso vediamo il Ministero impossibile la proroga ebbene è giunta ieri la risposta alla lettera del Comune che aveva chiesto chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture per sapere che se quei 20 milioni che la Regione si era mostrata disponibile ad erogare al Comune di Fano per migliorare i collegamenti con Pesaro fossero ancora utilizzabili nonostante che la scadenza in cui dovevano iniziare i lavori era già superata era passata ebbene dal Ministero delle Infrastrutture gestito come sappiamo tutti da Matteo Salvini è giunto un no ma non dice che non sono disponibili dice che la risposta non è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e occorre un provvedimento legislativo ad hoc di tutto il Governo per dire sì o no oppure per dire ovviamente che questi 20 milioni sono disponibili solo un decreto del Governo può farlo però questo complica evidentemente la lunga e contestata vicenda della strada che dovrebbe tagliare le colline del Carmine le colline di Gimarra per sfociare poco prima di Fosso Seiore sulla statale adriatica un'opera da 20 milioni di euro che il Comune avrebbe dovuto spendere entro il 30 giugno di quest'anno ma come abbiamo detto la scadenza è stata superata ebbene ora anche l'amministrazione comunale dice sapevamo questo ce lo aspettavamo più che lo sapevamo perché poi hanno chiesto dei raguagli per concedere la proroga serve un provvedimento legislativo pertanto restiamo in attesa della prossima finanziaria poiché nel decreto mille proroghe potrebbe essere inserita anche Fano e quindi avere la disponibilità del finanziamento comunque una premessa per il no del finanziamento era già stata evidenziata dal deputato Mirko Carloni in un articolo pubblicato dal Corriere Adriatico si riporta i suoi in Parlamento spunta Ricchetti gita a Roma per il sindaco Massimo Seri e i suoi fedelissimi delle civiche e di azione qualcuno pensa che sia stata l'occasione per far conoscere i dirigenti romani del partito di calenda il seguito di cui gode il primo cittadino e con lui c'erano tra gli altri Doardo Carboni ex noi giovani già iscritto ad azione insieme all'ex capogruppo di noi città Enrico Cipriani che invece era assente per motivi di lavoro c'erano anche gli assessori Etienne Lucarelli Barbara Brunori e il consigliere di noi città Pietro Valori e diverse altre persone per un totale di 15 partecipanti un'iniziativa di carattere politico del sindaco che vuole riunire attorno a sé un gruppo di fedelissimi non tanto perché lui non può partecipare non può proporsi alle prossime elezioni amministrative da primo cittadino ma comunque un gruppo politico che può ovviamente contare a livello elettorale Ricatti al perito della procura paga o tirovino ebbene questa è una notizia di cronaca un 56enne di Fano collega della vittima ha patteggiato otto mesi e si è scusato dando la colpa a problemi psicologici post-covid che cosa è accaduto questo 56enne aveva chiesto fino a 15.000 euro per non divulgare informazioni sulla sua vittima che lo avrebbe messo in cattiva luce con la procura di Ancona con cui lavorava a ricattarlo un suo collega un 56enne fanese esperto informatico operativo al di fuori della giurisdizione dorica che l'altro giorno ha patteggiato la pena appunto di fronte al giudice e per tentata estorsione pagato 2.000 euro di risarcimento danni alla vittima che ha donato quei soldi ad un'associazione beneverita Save the Children la vittima è l'analista forense Luca Russo 52 anni originario di Bologna ma da tempo residente in provincia di Ancona è un esperto informatico che da anni lavora come perito da parte per molte procure d'Italia e anche per quella dorica e poi abbiamo a fondo pagina l'articolo che riguarda l'assoluzione di quel ragazzo che si era legato al banco per non uscire da scuola pur non avendo la mascherina ai tempi del covid è stato assolto anche il sedicente costituzionalista che lo aveva in un certo senso indottrinato il ragazzo all'epoca diciottenne fu sottoposto a TSO è un provvedimento piuttosto forte a cui fu sottoposto questo ragazzo anche il Carlino pubblica il successo ottenuto dai carabinieri per lo sfruttamento sul lavoro al lavoro nei campi 12 ore al giorno e caporale al 4% dello stipendio siamo in conclusione voglio soltanto segnalarvi una pianta eccezionale si tratta di un ipocastano un ipocastano secolare che rischia però di cadere e a terre roveresche sono state evacuate sette persone per ragioni di prudenza e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa vi do appuntamento per l'informazione alle ore 20 e 30 di questa sera per occhio alla notizia il Tg di Fano TV e domani alle sette per una nuova rassegna stampa grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci